Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa trentatresima puntata del podcast di Marcosbox, sentite trentatresima come lo pronuncio bene. Questa puntata è dedicata a Manjaro per la maggior parte perché ci sono state molte notizie dal mondo di Manjaro che fra poco vi illustrerò. La prima riguarda la decisione da parte di Manjaro di fondare una società guidata dalla comunità che si occuperà di assicurare un sostentamento finanziario a Manjaro. Per i dettagli vi rimando poi al post che trovate su Marcosbox. Vi basti sapere che per gli utenti di Manjaro questo non cambierà nulla in quanto Galisto rimarrà sempre gratuita guidata dalla comunità e la società. Manjaro saranno due entità separate. Servirà soltanto questa società a assicurare un sostentamento finanziario facendo accordi con varie società come quella che è stata fatta adesso con Softmaker o accordi di sponsorizzazione, accordi che porteranno denaro all'interno delle casse di questa società, denaro che verrà utilizzato per dare sostentamento anche agli sviluppatori e alla distro in generale, perché come ben sapete non si vive soltanto di aria ma gli sviluppatori hanno bisogno anche di mangiare. Sempre restando su Manjaro abbiamo il tanto atteso rilascio di Manjaro 18.1.0, nome in codice Juraia, spero di averlo pronunciato bene. La novità principale di questa nuova versione sono due. La prima è quella che adesso è possibile scegliere in fase di installazione tra LibreOffice e FreeOffice oppure non installare nessuna suite. È stata infatti aggiunta questa possibilità di selezionare quale suite d'ufficio installare. LibreOffice, quella che sappiamo tutti quanti essere open, e FreeOffice, che open non è ma è gratuita soltanto. È stato poi aggiunto il supporto nativo a Snap e Flatpak, per la gioia di tutti quanti i fan di questi formati e per la scontentezza di tutti quanti gli hater del formato Snap. Parlando di FreeOffice, questa settimana è stata rilasciata una nuova versione che porta il supporto al sabbataggio dei file nel formato ODT, prima si potevano soltanto aprire, oltre che nei formati Microsoft proprietari DOC, XLS e PPT. Questo è frutto anche degli accordi di collaborazione fatti con i team di Mangiaro. Mangiaro aveva cercato di strappare questa promessa, promessa che è stata mantenuta, e quindi adesso Softmaker li ha accontentati. Speriamo che quanto prima venga esteso il supporto ai formati ODF tutti quanti. Altra novità del mondo Linux è l'arrivo su Ubuntu 19.10 della nuova versione del Temagliaro che adesso ha una nuova palette colori chiara. Questa nuova versione del Temagliaro è basata sul tema di Adua Ita, il tema di default che troviamo su Gnome. Andatela a vedere su Marcosbox, ho postato alcuni screenshot. Anche questa settimana abbiamo avuto un nuovo ospite per la rubrica Il mio setup, dove voi lettori potete condividere la vostra postazione informatica. In questa nuova puntata, in questa sesta puntata, abbiamo avuto ospite Fabio, che è un utente Linux di vecchia data che utilizza Ubuntu Mati 19.04 sul suo Microsoft Surface 3. Fabio si occupa di didattica scientifica nel mondo del gelato. Ho anche un sito internet sulla didattica del gelato.it che vi invito a visitare. Vi ricordo che potete condividere la vostra postazione informatica inviandomi tutto tramite mail che trovate in aggregato sull'articolo, tramite la pagina Facebook, oppure contattandomi tramite Telegram, c'è anche il canale Telegram di Marcosbox. Infine, l'ultima notizia della settimana, è una piccola video preview che ho pubblicato sulla versione per Android di Vivaldi. Andatela a vedere, troverete maggiori dettagli su questa prima versione di Vivaldi resa pubblica per Android. Bene, con questo concluso, gunga vita e prosperità a tutti quanti, ci sentiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast Marcosbox. Ciao ciao!